Siamo partiti, siamo a Brescia, stiamo andando a fare la ronda, questi sono i gruppi dell'autista Il Presidente, il Wolf e il Lupo, stiamo andando oggi, è una giornata bellissima, gli altri sono già spettacolari Siamo partiti, siamo a Brescia, stiamo andando oggi Siamo partiti, siamo a Brescia Siamo a Brescia Siamo a Brescia Siamo a Brescia Siamo partiti 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 Giovanni e basta perché gli altri sono a correre